Musica E martedì 17 ottobre, buongiorno, è il primo appuntamento della giornata con l'informazione di Telemulise. C'è la politica in apertura perché torna a riunirsi oggi il Consiglio regionale del Molise. All'ordine del giorno una serie di mozioni, tra cui quella relativa all'impianto Enel di Pizzone 2, firmata dagli esponenti del Partito Democratico in calendario. Anche una serie di nomine negli enti subregionali, questione per la quale si prevede comunque uno slittamento. Ci dice tutto Pasquale Di Bello. Come ogni martedì torna puntuale la riunione del Consiglio regionale. Il Presidente dell'Assemblea, Quintino Pallante, di concerto con la conferenza dei capigruppo, ha stilato un ordine del giorno di 23 punti, 17 dei quali relativi a nomine in altrettanti enti subregionali. Partiamo da qui dicendo subito che la questione sarà oggetto di un posticipo, essendo necessario a divenire, ad una composizione che coinvolga nelle indicazioni maggioranza e opposizioni e che, all'interno dei rispettivi schieramenti, tenga a sua volta conto delle indicazioni delle forze politiche. Gli altri temi in agenda riguardano mozioni tutte a firma delle opposizioni, atti di indirizzo che attengono rispettivamente alla proroga della Cassa Integrazione per i lavoratori della ex Unilever, al ripristino della postazione medicalizzata del 118 a Montenero di Bisaccia, alla riduzione delle liste d'attesa nella sanità e all'impianto Enel Pizzone, secondo nonché alla liberazione di Khaled El-Kwaisi che, per dovere di precisione, è stato già liberato ma che torna drammaticamente di attualità per via del conflitto scoppiato nella striscia di Gaza. Temi tutti quindi di stringente attualità, a partire da quello del governo delle liste d'attesa, sulle quali si è espresso nei giorni scorsi sia il direttore generale dell'ASREM, Giovanni Di Santo, sia il nuovo direttore sanitario Bruno Carabellese. Azienda sanitaria in regione hanno detto sono al lavoro per una sensibile riduzione dei tempi necessari ad effettuare visite ed esami clinici. Su Pizzone 2, la centrale idroelettrica, la cui costruzione è stata prevista nel territorio di Pizzone, appunto Castel del Giudice e Montagna Spaccata, è prevista la presenza del comitato che si oppone al progetto. Insomma una giornata che si annuncia robusta sotto il profilo dei temi da trattare e soprattutto all'impatto che questi temi hanno sulla vita di persone e lavoratori. Cambiamo argomento, a Larino le luminarie si faranno, è stato trovato l'accordo fra l'associazione Larino nel cuore e l'amministrazione guidata da Puchetti, importante l'attività di mediazione di alcuni cittadini, commercianti e di due associazioni locali. Il servizio è di Andrea Nasillo. A Larino le luminarie si accenderanno, trovato l'accordo tra l'associazione Larino nel cuore e l'amministrazione Puchetti. Importante è l'attività di mediazione di alcuni cittadini, commercianti e di due associazioni locali, Larinella e Larino Run. È stato stilato un protocollo di intesa tra gli organizzatori e il comune, finalizzato a diventare il punto di riferimento e di accordo tra le parti per il futuro. Questo documento stabilisce che l'associazione si impegnerà a organizzare l'evento ogni anno nel rispetto delle regole e della trasparenza e ad affrontare e risolvere eventuali problematiche attraverso altri incontri con l'amministrazione. Si è solo in attesa della firma ufficiale del sindaco. Noi tutti siamo pronti, ha detto il presidente di Larino nel cuore, Salvatore Faiella, a lavorare intensamente per recuperare il ritardo accumulato per la realizzazione dell'evento e regalare ancora una volta, grandi e piccini, un Natale pieno di sorprese e magia. Magia di luci è di fatto un evento straordinario che richiama decine e decine di migliaia di visitatori da ogni dove. È un evento che risplende senza confini, ha aggiunto Faiella, un'esperienza carica di significato per ogni cuore larinese e un vero gioiello per l'intera regione molisana. Questa magica celebrazione unisce persone e trasforma Larino in un luogo di meraviglia e ispirazione, toccando profondamente, ha concluso Faiella, chiunque vi partecipi. Ed è tutto per il nostro Tg del mattino. La nostra rassegna stampa adesso con il giornale del Molise.it e i titoli. I rappresentati del comitato No Pizzone 2 incontrano i consiglieri regionali, Pallante, il presidente del Consiglio dice incontro proficua. E poi le elezioni alla provincia di Campobasso sarà sfida 2 in campo i sindaci Puchetti e Civetta. Incendi provincia di Sernia, danni a linea Telecom e a impianto di sollevamento d'acqua. E poi l'impegno del ministro San Giuliano verrò a Campobasso per riaprire la biblioteca. Albino ha annunciato il ministro. Ospedale Santimotio ripartita nel pomeriggio una delle due TAC. Nel pomeriggio di ieri ovviamente parliamo dell'ospedale di Termoli. E poi sempre per la centrale Enel, lettera aperta del WWF ai consiglieri regionali. La centrale Enel è quella ovviamente di cui si parla la Pizzone 2. Ancora l'ASREM cerca un giornalista per la comunicazione istituzionale. Pubblicato l'avviso, a Larino si rinnova la festa liturgica di San Pardo di Vendemmia. Andiamo a leggere anche i titoli del quotidiano del Molise. L'apertura a legge finanziaria, stanziati 40 milioni di euro per il Molise dal governo. Patti Schmitt a diserni, a biglietti esauriti in poche ore. Provincia di Campobasso, sfida Puchetti, Civetta. Ispezione del direttore generale ASREM di Santo al Santimotio. TAC tornate in funzione. E sempre per quanto riguarda il mancato funzionamento delle TAC al Santimotio, Roberto, il presidente della regione, dice, circostanza non chiara. Contratti di fiume, il nostro oro blu va gestito nel modo più vantaggioso possibile per quanto riguarda l'attualità. E poi ancora andiamo a leggere Renzi, eletto presidente d'Italia Viva in Molise. Angelo Santoro è il coordinatore regionale. Viaggiavano sulla statale con cellulare, orologi e gioelli rubati, due persone nei guai. Si parla anche della Federazione Tradizioni Popolari. Michele Castrilli, riconfermato assessore nazionale. Vediamo adesso i titoli del quotidiano online primo numero punto IT. L'apertura è dedicata all'Amazon di San Salvo. Ripartono le assunzioni in vista di Black Friday e Natale. Poi trovate autisti disponibili. Il 118 termoli ha un mezzo in più, sarà di aiuto alla postazione demedicalizzata di Montenero. Giornata montiale alimentazione col dramma della siccità. Quale cibo? Senz'acqua. Busso entrano in una tartufaia controllata per rubare le pepite bianche scoperte e denunciati. Elezioni di secondo grado sono quelle della provincia di Campobasso. Per il dopo Roberti sfida fra Civetta e Puchetti al voto il 5 novembre. Si parla anche di sport con il calcio di Serie D. Lupi, Mister, Pergoli, Zilici, Bene, B, Dice, Bene, la vittoria e il carattere. C'è tanto comunque da lavorare. Termoli, Sora 1 a 1. I giallorossi rinviano ancora il ritorno al successo. Poi il basket di Serie A femminile. Magnoli a partenza difficile, grande rimonta ma nel finale si impone schio. presentate le tappe del Giro d'Italia che anche nel 2024 attraverserà Termoli ed altri comuni del Molise. L'appuntamento è il 15 maggio. E poi sempre per il calcio ancora una sconfitta per il basso Girardi. A Monte Rotondo perde 2 a 0. Disavanzo di bilancio 40 milioni di aroma. Il titolo di apertura di primo piano Molise in edicola nella edizione di oggi. Poi c'è il punto a firma di Umberto Berardo. L'esaltazione della vendetta e poi ancora un altro contributo di Michele D'Alessandro. Le scommesse illegali ed il mondo ovattato. Però per quanto riguarda la notizia di apertura del quotidiano, sono stati stanziati con la manovra approvata ieri dal governo Meloni. I fondi che saranno erogati entro l'anno e sono vincolati alla riduzione del debito della regione Molise. Pizzone 2 ancora sulla centrale. I comitati ricevuti dai capigruppo portate il Consiglio a Castel San Vincenzo. La richiesta è poi l'ospedale Santimotio. Tac rotte simultaneamente. Asrem e Nass al Santimotio. L'ispezione del direttore generale chiesta da Roberti. i tecnici al lavoro per limitare i disagi. Ieri pomeriggio il macchinario più vetusto dei due è tornato in funzione. E poi da Campobasso vedete il quadro economico della scuola Ponte di Selvapiana. Costerà 3,5 milioni. Sotto la testata andiamo a leggere gli altri titoli. Per la politica elezioni provinciali. Centrodestra schiera. Orazio Civetta. Pino Puchetti candidato trasversale. Per quanto riguarda quindi un'aggregazione più ampia sul fronte ovviamente centro-sinistra. E poi l'evento trovata l'intesa fra Larino nel cuore municipio. A Natale le luminarie saranno accese. Questa è una bella notizia. Dai Serni a parte il servizio mensa. Il sindaco Castrataro a tavola con gli scolaretti. In basso vediamo i titoli di sport. Campobasso gioco e forma fisica sotto la lente del mister. Oggi la presentazione del direttore sportivo. Per l'eccellenza l'Isernia in fila. Un'altra cinquina. Farrocco esalta i tifosi. Ne voglio mille allo stadio. E poi invece per la promozione. Sempre di calcio. In vetta resiste il riccia. Le big non sbagliano. C'è ovviamente quanto accaduto nella serata di ieri a Bruxelles con l'attentato terroristico di un uomo che ha ucciso due persone svedesi nella città del Belgio. L'apertura del Corriere della Sera è questa. Torna la paura in Europa. Bruxelles uccisi due tifosi svedesi. Ieri sera c'era la partita di qualificazione a Bruxelles fra i locali del Belgio e la Svezia. Sono stati uccisi due tifosi. Sospesa la sfida con il Belgio. Il killer gridava alla Akbar. Poi è scappato. Il video sono dell'Isis. Ha annunciato il terrorista. Gaza intanto. Stati Uniti in campo. Blinken vede Netanyahu aiuti nella striscia. L'ipotesi di una visita di Biden che si fa sempre più probabile. Poi c'è la manovra finanziaria del governo. Una manovra da 24 miliardi. Meloni che dice seria e realistica. Le misure per le famiglie e le imprese. I titoli adesso di Repubblica. Che sempre sui fatti di Bruxelles. Titola così. Il ritorno del terrore. Attentato a Bruxelles. Un jihadista dell'Isis. Ha aperto il fuoco nel centro della capitale belga occidente. Due persone al grido di Allah Akbar. Caccia all'uomo. Fuggito in scooter. Con un'arma da guerra. Un kalashnikov. Sospesa la partita belgio-svezia. In programma lo stadio Aizel. E poi Gaza. Putin offre una mediazione. Da amassi il primo video di un rapito. È stato diffuso nella giornata di ieri. In Polonia Donald Tusk porta al trionfo l'opposizione. sconfitti i populisti. I risultati delle elezioni appunto nel paese. Poi la legge di bilancio. Una povera manovra secondo Repubblica. La saga della precarietà. E poi le famiglie. Secondo Meloni sono gli approfondimenti dalla Repubblica. Andiamo a leggere anche i titoli di Avvenire. Allora andiamo a leggere appunto cosa scrive in prima pagina il quotidiano della conferenza episcopale italiana. Questo è il titolo emblematico. Molto bello. Un passo oltre l'odio. Restano chiusi i valichi per gli sfollati della striscia di Gaza. Ovviamente Israele evacua i civili dalle aree di confine. Ad avvenire centinaia di voci di pace da tutta Italia. Oggi la giornata di preghiera e digiuno. Ancora bombe e morte in Medio Oriente. Le vittime ormai sono quasi 5.000. Attentate a Bruxelles. Due uccisi e diversi feriti. E poi la manovra sconti per le famiglie. Ma è stretta sulle pensioni. Varata la manovra. Aumenta il contributo al Servizio Sanitario Nazionale per alcuni stranieri. I titoli principali di Avvenire. Vediamo anche quelli del Fatto Quotidiano. Apertura. Biden, Putin e Xi provano a tenere fermo Netanyahu. Guerra di Gaza. Ultimi tentativi dei big del mondo per evitare la rioccupazione. Come la definisce il fatto ovviamente della striscia di Gaza. Catastrofe sanitaria all'OMS. Israele blocca gli aiuti. Gli ospedali domani chiudono. Stallo fra Tel Aviv, Iran e Hamas. Sui 199 ostaggi che sarebbero di più secondo Hamas. E poi morti in nove giorni. 2.800 palestinesi e 1.400 israeliani. Governo diviso. Sotto la testata il governo pergiora la Fornero e butta 3,6 miliardi dal ponte. Tagli per 5. Unico pregio. I fonti per la natalità secondo il fatto. Intercettato col Troian. Giletti a Cacciari. Censurato dalla Sette per Dell'Utri. e Berlusconi avrebbe detto il conduttore giornalista televisivo. Da Il Fatto Quotidiano andiamo a vedere anche i titoli di Libero. L'apertura. Ebrei, italiani, nascondetevi. La comunità di Milano. Il Vade Mecum per evitare attentati. Coprite la Kippa. Fate entrare i fattorini nei palazzi. Non girate sole ma evitate assembramenti. Cambiate luoghi d'incontro. Chiudetevi in casa. Questo sarebbe il Vade Mecum appunto diffuso dalla comunità ebrea di Milano per tutelarsi in qualche modo dal pericolo. E ora di tagliare la testa del Serpente. L'editoriale di Mario Secchi. La legge di Boldrini e Fratoiani. La sinistra vuole il giorno per le vittime degli italiani. E poi tagli a tasse e canonerai. Ecco la manovra confermata alla sporbiciata del alcuneo fiscale. Aiuti per chi ha due figli. Interventi mirati su conti e niente fuga in avanti. E poi la rotta. La linea identitaria per le spese. Protesta della polizia contro l'apostolico. La giudice aveva testimoniato contro gli agenti per suo figlio. Questi titoli di Libero. Andiamo a vedere adesso anche quelli del Messaggero. Il quotidiano di Roma. Sceglie di aprire sulla manovra economica. Bonus agli statali. Finanziare da 24 miliardi. Pubblica amministrazione. Maxi anticipo fino a 2 mila euro con premi e welfare detassati. 100 euro ai redditi medio-bassi. Tagliato il canonerai. Sgravi alle madri lavoratrici dal secondo figlio. Ovviamente in su. Per quanto riguarda le elezioni in Polonia. Gli europeisti verso il governo. Il PPA applaude task. L'Unione Europea ora cambia. L'inflazione italiana rallenta ancora l'Istat. Il caro prezzi si ferma al 5,3%. E poi il terrore ISIS a Bruxelles. Vedete le foto con alcuni fotogrammi dell'attentato. Dieri sera. Terrorista uccide due tifosi svedesi. Sincentro riventicazione social. Poi la fuga verso lo stadio. Vediamo adesso i titoli del secolo d'Italia. Sì del Consiglio dei Ministri. Alla manovra taglio di tasse e canonerai. E l'apertura. In primo piano Hamas pronta a rilasciare ostaggi in cambio della tregua. Sanità in manovra 3 miliardi per ridurre le liste d'attesa. Agli extracomunitari dovranno versare 2 mila euro per la sanità. Questi titoli del secolo d'Italia. Vediamo anche quelli del manifesto. Come sempre è bello ed emblematico il titolo d'apertura. Un popolo di troppo. Oltre un milione di palestinesi sfollati e l'acqua è finita. Ma il valico di Rafa con l'Egitto resta chiuso. Israele non utilizza l'ingresso di aiuti a Gaza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice catastrofe imminente. Biden verso un viaggio nella regione. Il Cairo chiama a raccolta l'Europa e paesi arabi. E poi in basso sulla manovra economica. Tagli per tutti e nessuna modifica. Il governo approva il disegno di legge di bilancio. La stampa di Torino. I titoli in evidenza. In pensione più tardi salta quota 103 per quanto riguarda il titolo sulla manovra economica approvata ieri dal Consiglio dei Ministri. E poi il piano Biden per evitare la guerra. Il presidente degli Stati Uniti domani in Israele. Questo almeno è quello che si prospetta. Nuo all'invasione di Gaza. L'Ira nostaggi liberi con lo stop ai raid. Poi terrore a Bruxelles. Uccisi due tifosi svedesi. Diversi feriti. Il video del killer sono dell'Isis. Vendico i musulmani. Vediamo anche adesso i titoli del Sole 24 ore. Ovviamente l'apertura è dedicata alla manovra economica. IRPEF pensioni, imprese ed autonomi. Le novità della manovra da 28 miliardi. Meloni intervento serio realistico. Dice la Premier. Salvini si auspica niente mentamente. Ovviamente nel passaggio parlamentare. Poi via libera al disegno di legge di bilancio. Decreto anticipi. Due decreti di riforma del fisco. E ancora riforma IRPEF vantaggi massimi tra i redditi fra 21 e 29 mila euro. Tagliato oltre il 5% dell'imposto. E poi ci sono gli approfondimenti vari sui vari contenuti della manovra. Per quanto riguarda il fronte estero. La guerra in Europa. Ucraina. Putin dalla Cina proposte realistiche per un accordo di pace. Singapore. La Svizzera asiatica. Terza piazza finanziaria mondiale. C'è anche questo focus. E poi Duferco. Laminatoio green. Da 250 milioni al via. La pagina regionale del centro. Andiamo a leggere i titoli. In evidenza. Gli niegano i soldi. Incendi all'altare. L'apertura. Pescara. Paura nella cattedrale di San Cetteo. L'allarme dato da una fedele. Poi il racconto shock. Famiglia aquilana in fuga da Israele. Notti di terrone. Chiusi nel bunker. Tagliacozzo brucia l'azienda dei genitori. Dopo la lite è stato arrestato. E poi l'inserto del centro. Posti di lavoro in Abruzzo. Ecco le nuove opportunità. In basso. Pescara. La sentenza. Due anni al falso commercialista. Il 55enne avrebbe incassato i soldi dei clienti per le imposte. Il voto. A Pescara. Il PD a caccia di alleati. Partono le trattative. Pegno ospedale. Inaugurati i lavori. Attesi da 40 anni. E poi anche un focus sulla manovra economica. Cane onerai meno caro. Il governo lo taglia da 90 a 70 euro l'anno. Abruzzo le scelte. Rete ospedale e super bonus. Giorni decisivi alla regione. Sindacati autonomi. Treni. Bus e trasporti. Venerdì lo sciopero. C'è anche il titolo di sport. Il Pescara ancora senza gol. Solo un punto con l'Aivis Pesaro. Zeman fan lisce. L'aggancio al secondo posto. Uno sguardo adesso alla edizione del centro di Teramo. Andiamo ovviamente a leggere i titoli specifici territoriali. Ricostruzione via grandi opere. Teramo pronti i progetti per ex regina Margherita e scuola Gemma Marconi. E poi il sacerdote li nega i soldi. Incendi all'attale della cattedrale. Aquilana in fuga da Israele. Notti di terrore in un bunker. Tentato omicidio. Daspo a due giovani. Accaduto a Giulianova. Hanno accoltelato il gestore di un pub lontani per tre anni da tutti i locali. I provvedimenti adottati in riferimento a questo fatto. E poi Teramo nuove violenze. Caos in carcere. Agente ferito da un detenuto. Lutto a Sant'Egidio. Oggi i funerali. La Sant'Egidese piange e sorgi. L'ex attaccante colpito in casa da un malore. Aveva 52 anni. Giulianova. Vongolare. Nuo fermo. Granchio blu. Allarme alto. Sulla statale 16. Di Silvi. Rogo. Devasta. Un chiosco per i panini. Spazio adesso alla edizione Chieti Lanciano Vasto. L'apertura all'assessore Raimondi. Mi dimetto. Chieti. Caos in comune. L'esponente del PD dice. I miei colleghi bravi a fare i selfie. E poi maltrattata in casa da figlio e nuora. Sambuceto. Il giudice li caccia dall'abitazione. Le hanno tagliato anche l'antenna della tv. Ancora San Salvo. Denso. Altra cassa integrazione. Parte la richiesta per altri sei mesi di ammortizzatori sociali. Incontro con ministero e sindacati. Castel Frentano. Coltellate familiari. L'ite iniziata per la droga. Montazzoli. Investito dal camion. Rischia di perdere una gamba. Questi dunque i titoli dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto. Vediamo adesso anche quella di. Eccola qui. L'Aquila Avezzano Sulmona. Andiamo a leggere l'apertura. La violenza in città scatta l'offensiva. L'Aquila ha fermato il rapinatore del parco. Risposta dopo il vertice in prefettura. E poi brucia l'azienda di famiglia dopo la lite. Tagliacozza arrestato il trentenne Gargano. Danni per migliaia di euro. Salvate le mucche. Ruba ori e gioielli alla suocere. Finisce nei guai. E' accaduto a San Demetro. Nei vestini. E poi Avezzano e Sulmona. Sperano. Tribunali. Piano per la sicurezza. I sindaci chiedono risposte rapide. La regione li convoca. Marsica. Un urso contro l'auto. Automobilista denuncia. E poi il calcio di Serie D. L'Aquila. Tabù. Gran Sasso. E l'Avezzano. Pensa al Chieti. Vediamo adesso insieme anche i titoli sulla pagina Abruzzo del messaggero. L'apertura. C'è una doppia apertura. Il titolo principale è questo. Corso Umberto. Caso Lavori. Pescara. Il comune chiama raccolti i commercianti. Si teme l'effetto cantiere a Natale. Via al restyling sul lungomare. Il waterfront cambia volto nella zona della Madonnina. A Saltivali. Il Pescara sbalte sul muro della Vis. Pareggio in casa 0-0. E poi il personaggio. Verratti. Prima di ritirarmi tornerò a giocare in Abruzzo. Dove ho gli amici, dice il calciatore. Gambero Rosso. Nico Romito. Migliore chef con bottura. Riconoscimento per lui. Pescara. Le piscine in difficoltà. Marsilio si tuffa. Riaperte le naadi. E poi bloccato uno squilibrato. Tenta di ingegniare l'altare della cattedrale di Pescara. Scatta il piano antiterrorismo. E poi in basso i ragazzi riscoprono il dialetto. Lo studia. Anche una cubana. E si parla addirittura di fenomeno sulla pagina del messaggero. Sotto la testata sul Mona. Attacco hacker ai computer ASL. I pazienti chiedono di essere risarciti. L'Aquila ha arrestato il rapinatore armato di Matterello. Giulia Nova ha coltellato fuori dal locale. Due gli aggressori in manette. Chiudiamo la rassegna stampa con i titoli della Gazzetta dello Sport. Sotto la testata ovviamente le anticipazioni della gara dell'Italia per le qualificazioni agli europei 2024 di stasera. In Inghilterra senza paura. Italia serve un martedì da Leoni, Samo e Leazzurri. L'urlo di Buffon per caricare la nazionale. Poi si torna ovviamente a parlare della questione scommesse. Lo Juventino patteggia. Si tratta di fagioli. Arriva lo stop, sia lo sconto. Ma perderà tutta la stagione ovviamente per squalifica. La procura vuole un anno. Nicolò punta a 7-8 mesi. Tonali anche lui è pronto a parlare. Poi terrore a Bruxelles. Attentato prima della gara. Due morti. Belgio-Svezia sospesa. Attacco Isis ai tifosi scandinavi. E la squadra non torna in campo. E poi Milano-Cortina fuori pista. Bobbe-Slittino all'estero. Uno smacco viene definito così. Per l'Olimpiade 2026. Che vedrà appunto le gare di Bobbe-Slittino. Che si disputeranno non in Italia. Se il Porto esce dalla Champions. Taremi già a gennaio. Ecco il piano dell'Inter per il regalo ad Inzaghe. Poi Milan-David resta sempre in cima ai pensieri. L'idea è giocare di anticipo. E con i titoli della Gazzetta dello Sport. Chiudiamo l'appuntamento con la rassegna stampa e con la nostra informazione del mattino. Informazione di Tele Molise che torna in diretta alle 14 con il telegiornale. A voi tutte e tutti. Grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.